ciao sono luca allenatore delle linci cuspise rugby accetto la sfida delle domande allora non ci fa sfigurare prima domanda quali tipi di assorbenti esistono o meglio conosci o esterno interno quindi c'è poi quello esterno con le alette quello giorno notte ultra assorbente sottile cioè questi due macrotipi e poi no seconda domanda sai dirmi cinque o più personaggi femminili della disney allora la sirenetta pocahontas ribelle la gatta degli aristogatti non so se vale sirenetta pocahontas poi sirenetta pocahontas ma tutte quelle si è guardato anche in trasferta ah quelle di frozen elsa e elsa e come si chiama quell'arte cambia cartone ma io dormo sempre in trasferta mentre guardate cartoni dai no me ne vengono altre te ne manca due eh sì ho capito c'è una rientola bravo l'ultima comunque se non l'unica cazzuta non la sai ah quella dei cosi come si chiama di lilo e stitch non è della disney dai ma la principessa guerriera cazzo mulan è boiade va bene terza domanda a cosa serve lo scrub lo scrub serve a rimuovere le impurità della pelle attraverso un'azione meccanica toglie le cellule della pelle morta e no me l'ha insegnata tu sì ma è sfogliare ma vabbè quarta domanda sai dirmi cinque o più nomi di giocatrici della nostra nazionale allora c'è la barattina la furlana la non si chiama quella di buono c'è anche il fratello che gioca no vabbè c'è la camarano no sono un pappa non me ne ricordo più ne manca due la cavina e l'ultima finiamo in bellezza conosci qualche canzone sulle donne? cantane un pezzetto quella di... sto per dire una castroneria ma è zucchero quando le donne cerchere di guai donne alf ecco no lo so ma un'altra esatto Donne, donne, oltre alle gonne c'è di più. Alle gonne o alle gambe? Alle gambe. Va bene, va bene. Mannaggia, che prova orribile. Saluta. Ciao. Ciao, sono Luca, legatore delle linch cuspise rugby. Accetto la sfida delle giocate in rima. Per farmi perdonare l'orribile figuraccia patta con le giocatrici della nazionale, bevo a maggior ragione. Qui c'è il bastone, qui ci sono le vire che ho già avrezzato per portarmi un po' avanti i potetti. Sono da 0,5 quindi complessivamente siamo sullo 0,6. Attenzione che lui ogni tanto fa qualche rutto, non sarò io, eh? Non sono io. Non sono io. L'hai spaventata. Se la freccia vuoi giocare, la palla all'altezza e velocità dovrai afferrare. Mi raccomando, dalla difesa, non farti placare. Se vuoi giocare in una nera, trova una compagna poco leggera. E solo quando il mediano dirà, schiantati sulla difesa a tutta velocità. Ciao a tutti, sono Francesco Candido e sono il preparatore fisico delle linci del Cuspisa Rugby. E oggi farò il test di piegamenti sulle braccia in un minuto. Ci siamo? 3, 2, 1, via. 6. Qualcuno conti? 6. Qualcuno conti? 6. Qualcuno conti? Quanto conti? 5, 4, 5, 5. 6. Qualcuno conti? 7. Qualcuno conti? 5. Qualcuno conti? Grazie.